Come frenare l'esplosione dei premi? Ve lo spiego in 20 secondi. Una famiglia, composta di 4 persone, paga fino a 15.000 franchi all'anno per l'assicurazione malattia. In 20 anni i premi sono raddoppiati. È inaccettabile. Già oggi potremo risparmiare 6 miliardi all'anno senza compromettere le cure. Stiamo lottando per un sistema sanitario accessibile a tutti.